Musica Sono Paola Toni e sono una consulente di marketing e comunicazione d'impresa e oggi sono formatrice al corso dell'agenzia RS. Il tema era la comunicazione dei servizi. Diciamo che i servizi hanno delle peculiarità specifiche su cui bisogna assolutamente avere le giuste competenze per poterli comunicare bene. La mia lezione punta soprattutto a far sì che il valore dei servizi venga comunicato e soprattutto riuscire ad avere un piano strategico che significa non solo che mi do degli obiettivi e dei risultati ma che coinvolgo tutti gli strumenti di comunicazione dai cartacei al digitale al sito web per creare quindi un impianto comunicativo che sia quello più persuasivo e più utile per chi legge, per chi ascolterà. La mattinata è così organizzata che io parlo per un'oretta, un'ora e un quarto e quindi do tutta una serie di tecniche, di marketing, dei servizi e poi dopo ci sono delle esercitazioni. Quindi il gruppo è diviso in quattro parti. Ogni due gruppi affrontano un tema. Uno è proprio costruire un piano di comunicazione di un evento, di una situazione e la realizzazione di slogan e frasi che siano così accattivanti per chi lo leggerà e un altro invece deve costruire quattro mesi di post su Facebook sempre nella logica di valorizzare il valore che soggiace, che c'è dentro ogni servizio alla persona che loro gestiscono. Grazie a tutti.